Nico Barani all'esordio ai test di Misano Adriatico e a me sembra un bel esordio considerando che è una moto non l'ho mai visto, è sette mesi che non monto sopra una moto è un bel inizio Senti, io t'ho visto, mi hai pestato subito, già svariate volte e per starti dietro ho faticato pure avendo un'aprilia che tu stai competitiva guidi in maniera, diciamo, smariziata, sai esattamente dove fare le linee? Ma è una pista che ho bella vista, in più la voglia di rimontare sopra una moto dopo tanto tempo, era molta Innanzitutto hai una certa altezza, hai un metro e 75, lo ricordiamo, hai 18 anni e la motina, l'ondina, è notoriamente un po' piccolina, però io t'ho visto bene sopra No, beh, sono un po' alto, quindi in carena ci sto un po' stretto, però a buttarla giù nel cambio di direzione è molto facile da guidare È reattiva, 70 kg, 44, 43 cavalli, insomma, troviamo le motociclette così In ogni caso, il progetto sembra che ti piaccia, l'Academy Grand Prix, quello che stiamo facendo per i giovani Sì, è una bella opportunità che mi è stata data Vediamo però come ti comporti nel campionato, rispetta l'anzianità, mi raccomando Ciao a tutti, grazie Ciao